Geppi Lama si dice pronto a tornare con Aida Jespica. Il breve flirt tra la modella venezuelana e Jeremias Rodriguez nella casa del grande fratello Vip è ormai un lontano ricordo peraltro smentito dalla stessa Aida che ha sempre chiarito come non sia mai successo nulla. A chi, Geppi spiega di essere ancora deluso ma incline al perdono, mi manca da morire, ammette. Sono malinconico, ma reattivo. Devo essere onesto, devo accettare che la mia ragazza è scivolata durante una serata allegra. Chi di noi non sbaglia certo, io in questi mesi sono stato un monaco di clausura, non le ho mancato di rispetto, ma dentro la casa tutto cambia. Per questo, quando ho capito che si stava perdendo, le ho fatto recapitare un biglietto, il nostro bracciale, il mio dolore. Doveva sbattere per capire l'errore. Non sono come gli altri ex traditi in tv che vanno in tv e fanno i traditi in tv. Io lavoro, non è il mio mondo così. Geppi ha spiegato i motivi che le hanno spinto a rifiutare un confronto televisivo, ha preferito inviarle un semplice biglietto in cui si diceva deluso da lei e, pochi giorni dopo, un nuovo messaggio d'amore tramite aereo. Ho capito che la mia peste era tornata di nuovo a Aida. Sembra strano, ma in quattro mesi abbiamo creato un rapporto che forse si crea durante anni e anni. Conosco la sua famiglia, lei la mia. Siamo andati di corsa verso l'amore. Aida è uno dei finalisti e dunque non uscirà dal reality prima della finale del 5 dicembre. Solo dopo quella data verrà il loro chiarimento con Aida. Basterà uno sguardo per capire se è finita o no. Il presunto bacio tra Aida e Jeremias, sempre negato, fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l'ama, giovane imprenditore napoletano con cui, appunto, la Iespica si è legata poco prima di entrare al GFV. Avevo finito di lavorare, stavo guardando la diretta e mi sono addormentato. Improvvisamente il mio cellulare scoppia messaggi, telefonate, di tutto, tutti avevano visto la scena della tenda. Accedo la tv e vedo il suo sguardo. Era brilla. Leggevo l'errore nei suoi occhi. Mi ha mancato di rispetto. La gente di riflesso mi ferma per strada e la figura del cornuto non la voglio fare. Quella scena, per i due diretti interessati, è solo un ricordo la Iespica ha spiegato di provare semplice amicizia per Rodriguez, mentre quest'ultimo si è già lasciato tutto alle spalle ed è tornato con la ex Sara Battisti. Geppi parla di Geremias e Ignazio, su Geremias, Geppi è tutt'altro che tenero, ribadendosi convinto che quanto successo con Aida non conti niente è un ragazzo giovane, parla di rispetto e di regole, ma è il primo che non conosce il valore di queste parole. Aida non è pazza di lui, Geremias è stato un momento di debolezza nella casa. Nient'altro, il nulla, lama non risparmia frecciatine neppure sull'aliaso tra Cecilia e Ignazio non è un uomo, ma un ragazzino senza bip. La sua storia con Cecilia non avrà lunga vita.